Nuove aziende tecnologiche investono nel territorio di Bari. L'ultima, in ordine cronologico, è la multinazionale giapponese NTT Data, che col Politecnico di Bari ha stretto un importante accordo quadro per supportare la formazione di talenti nel digitale. Già presente nel mezzogiorno, in realtà come Napoli e Cosenza, NTT Data punta inoltre a fare del capoluogo pugliese un polo innovativo, creando nuovi posti di lavoro. La sede, al momento, in fase di individuazione, verranno effettuate in collaborazione con lo stesso Politecnico attività di ricerca e sperimentazione, senza dimenticare stage e tirocini per gli studenti. Sarà un'opportunità per i nostri studenti per trovare un posto di lavoro rimanendo qui nella regione Puglia, ma soprattutto per essere coinvolti in tematiche di grande rilievo per la trasformazione digitale dei prossimi anni, di tutto il sistema della produzione industriale nazionale. Lo faremo collaborando in attività di ricerca, di formazione. Realizziamo un faro tecnologico per tutti quelli che sono i talenti nel Mediterraneo, per poter attrarli, far sì che si trovino a proprio agio con le nostre ambizioni e diventare competitivi a livello internazionale nel mondo dell'information technology.